il presepio arruga 2021 la nostra tradizione dei due presepi anche quest'anno è confluita in uno solo le statuine d'autore simboliche e il carretto con i lavori prodotti durante l'anno che arruga trascina e offre al presepio come ogni anno aiutato un po più da me quest'anno sì perché nel carretto c'è un prodotto tuo l'ultimo ma tuo fatto da te lasciatomi finito bellissimo nel 2020 e che io ho amorosamente curato per l'editing e rosellina archinto ha felicemente pubblicato è lì nel carretto il tuo bel libro accordi 40 personaggi della mia vita bellissimo perché nel momento triste di cure tu sei riuscito a lanciarti solo nella bellezza dei più belli forse più cari ricordi della tua intensa vita musicale e letteraria e teatrale ma c'è qualcosa d'altro che esce dal carretto in questa spuma di immagini che vedete sul pianoforte primo le videate dell'archivio privato lorenzo arruga che dall'anno scorso ho aperto su youtube e ho continuato e che ancora moltissime cose da ricevere due nella mostra in atto al museo della scala bellissima a cura di vittorio vittoria crespi su streller e la scala nella parte virtuale legata alle nozze di figaro famosissime di streller c'è un frammento di un video di lorenzo di parecchi anni fa dove streller prova per lui il finale delle nozze di figaro e lorenzo al pianoforte suona tre un documentario nuovissimo che rai 3 presenterà la sera del 28 come la notte di alessandro turci inserisce in una rievocazione velocissima il senso del lavoro della persona di streller osservata raccontata dalla famiglia dei suoi attori più cari del piccolo e alessandro mi ha detto che l'inizio il clima la spinta iniziale a questo tono di confidenza gli è proprio venuta dalla conoscenza dallo studio della mostra a palazzo reale fatta curata da lorenzo arruga su streller tre anni fa e questa fioritura nuova di qualcosa di suo mi piace moltissimo con questo un augurio di buon natale a tutti voi da lorenzo e franca